Chi si fosse sintonizzato su quelli che il calcio domenica 17 avrà, sì, seguito le partite e i gol più importanti del campionato ormai agli sgoccioli, ma avrà di certo anche assistito ad un collegamento super sexy dell'inviata Angela Raffanelli al forum di Assago in compagnia di Fedez. Il rapper, ultra impegnato con il tour, ha risposto alle domande della giornalista, ma ad un certo punto non è stato più lui il fulcro dell'intervista. La Raffanelli, infatti seduta ai bordi del palco con un mini dress decisamente troppo mini, ha lasciato intravedere abbondantemente gli slip rosa. Il conduttore di quelli che il calcio ha tentato di minimizzare l'incidente hot in diretta dicendo si è visto qualunque cosa e quello che in gergo internet si definisce upskirt, mentre Fedez ha sottolineato maliziosamente ci avevamo scommesso. Chi usa la parentesi sexy, la giornalista ha proseguito con le domande a Fedez tenendo le gambe accavallate, ma ormai il danno è stato fatto e alla fine non le è rimasto da fare che cinguettare dal suo account volevo dire che le mutande sono rosa.